Come sempre io ricompaio qua nel mondo HD motori quando c'è da provare qualcosa di tecnologico un po' particolare, un po' strano ed oggi è il caso di questo box, mini box Android che si chiama Carbotics un aggeggio veramente particolarissimo che va collegato tramite cavetto USB al sistema di infotainment dell'auto e permette poi di sfruttare il display della vostra auto come un tablet Android, come un mini PC Android dove potete fare veramente di tutto, guardare film, giocare, andare sui social, tutto quello che volete semplicemente con questo senza installazioni particolari, senza diciamo complicazioni ulteriori vi faccio vedere come funziona eccoci qua, io ho già collegato il boxettino al sistema di infotainment dell'auto tramite USB, un normale cavetto Type-C che trovate anche in confezione come vedete lui lo riconosce come Apple CarPlay questo infatti è l'unico vero requisito che dovete avere sulla vostra auto per poter usare questo Carbotics nonostante sia di fatto un mini PC Android, un tablet Android, lui lo riconosce come Apple CarPlay questo così funziona su tutte le auto, quindi molto molto importante vado ad aprirlo e vi accoglie questa schermata che è già la Home come vedete è proprio un'interfaccia che è praticamente identica a quella che potreste avere su un tablet o su un mini PC Android, avete quindi tutte le applicazioni, avete il Play Store da cui potete andare a scaricare tutto quello che vi aggrada e poi avete la tastiera, insomma potete fare veramente tutto quello che fareste con un normalissimo tablet Android come si fa a navigare? tramite questo pulsantino che è flottante e poi sparisce entro cui avete i comandi rapidi, quindi avete il back to home, indietro, il tasto per le apprecenti, i comandi vocali questo tastino qua serve per, scusate, quel tastino serve per andare a passare su Apple CarPlay se avete collegato un iPhone questo serve per liberare la memoria e poi il tasto multitasking come vedete tutto funziona senza alcun tipo di problema adesso qua sono andato su Hdblog che si apre con l'interfaccia mobile quella che avreste sui tablet per intenderci tutto funziona normalmente, potete seguirvi, leggervi gli articoli insomma fare veramente tutto quello che volete ovviamente potete usare i programmi di intrattenimento YouTube funziona senza alcun tipo di problema andiamo a far partire magari un nostro video ecco qua l'ultimo video di Gabriele questa è la copertina e poi parte ovviamente la pubblicità però insomma è per farvi capire che tutto funziona funziona anche Netflix vi faccio vedere che si apre a volte dà un errore dice che l'applicazione deve essere aggiornata vi dite ok non fa niente ok ecco vedete questa cosa qua anzi no questa qua era per le notifiche no grazie andiamo a riprodurre il primo che ci parte e vedete che insomma agisce correttamente potete anche scorrere qua ovviamente la velocità e la qualità dipendono dalla connessione non dal prodotto lui secondo me va in HD a livello di diritti dovrebbe avere quello però insomma tanto sugli schermi delle auto non è che abbiate grandissime risoluzioni poi per esempio Google Maps always apriamo Google Maps per comodità funziona bene ha l'interfaccia quella dei tablet Android il fix del GPS è davvero istantaneo e avete tutte le funzioni di navigazione classica potete anche vedete selezionare delle cose diverse che sulla versione per Android Auto ovviamente non ci sono potete anche scaricarvi le mappe offline volendo poi fate avvia e via questo è quello che succede una cosa carina è che voi potete tenerlo comunque in split screen andiamo ad aprire per esempio anche Spotify ok Spotify mi dà questo errore generico qua però poi in realtà funziona quindi boh non ho capito perché faccia così allora io vado a riaprire Maps poi vado a toccare qua e seleziono Spotify facciamo partire una musica e vedete che voi avete lo split screen da una parte avete la navigazione dall'altra parte avete Spotify poi c'è questo tastino che permette di ridimensionare dovrebbe permettere di ridimensionare le app però in realtà poi non funziona quindi va solo al 50 e 50 diviso a metà molto lineare e molto semplice devo dire da utilizzare altre cose importanti da sapere sono quelle legate alle funzioni telefoniche perché chiaramente se voi avete magari solo un USB sul vostro sistema di infotainment e collegate questo box e poi non potete più collegare lo smartphone in realtà però potete utilizzare comunque le funzioni telefoniche avete due strade per farlo la prima è tramite quest'app è la strada più semplice come vedete io ho collegato il mio telefono e poi posso andare semplicemente a utilizzare tutte le funzioni guardate qua ho anche tutta la lista di chiamate ho tutti qua i miei contatti posso fare veramente tutto quello che volete potete usare il telefono ovviamente viene utilizzato il microfono dell'auto e viene utilizzato gli speaker dell'auto quindi come se voi avesse semplicemente collegato il telefono l'altra strada invece è utilizzare quest'app che si chiama Speedplay che è veramente figa perché vi permette di utilizzare Android Auto o Apple CarPlay in modalità wireless ed è veramente una cosa notevole ci metto un attimo la prima volta adesso perché io mi sono collegato tramite hotspot quindi deve scollegarsi e collegarsi in un'altra maniera però poi una volta configurato funziona senza problemi ecco vedete che il primo avvio è sempre un po' problematico però poi parte ecco qua vedete questo è il telefono io non ho collegato nessun cavo e funziona correttamente e attenzione la mia auto non è compatibile con Android Auto Wireless quindi è una bella funzione in più che viene aggiunta e questo qua è Android Auto normale insomma funziona come quello che conosciamo come quello via cavo ma via wireless diciamo quindi avete tutte le applicazioni le notifiche eccetera eccetera è un po' lentuccio non è proprio velocissimo però insomma è una possibilità che avete anche di utilizzare tutte le funzioni telefoniche perché qui avete l'app senza dover collegare il telefono col cavo entriamo nelle impostazioni perché vi faccio vedere che io adesso l'ho collegato tramite hotspot ecco quello che vi dicevo prima è che lui deve attivare l'hotspot per collegarsi con lo smartphone se volete usare Android Auto Wireless e per questo motivo ci mette un po' al primo collegamento altrimenti insomma normalmente io lo collego collego il box all'hotspot dello smartphone vedete in questa maniera però ovviamente avendo qua la porta sim non la vi vieta di inserire la sim e così avete risolto tutti i problemi lui è sempre collegato poi volendo insomma potete utilizzarlo anche senza la connessione però diciamo che serve a poco allora qualche precisazione visto che siamo arrivati alle conclusioni la prima la più importante è illegale oltre che ovviamente molto pericoloso guardarsi un film su Netflix mentre state guidando se vi fermano vi fanno una multa che ve la ricorderete ma in ogni caso è estremamente pericoloso capite bene guardarsi un film mentre si guida tra l'altro non potete farlo nemmeno per farlo vedere per esempio al passeggero che sta di fianco a voi o ai vostri bambini che stanno dietro ecco è una cosa che non si può fare a norma di legge quindi questo tipo di dispositivo dovete usarlo sostanzialmente quando siete fermi e nelle condizioni di sicurezza non so se siete fermi in un parcheggio dovete aspettare che la vostra moglie esca dalla parrucchiera o il vostro figlio esca dalla partita di calcio siete lì che vi state annoiando oppure siete fermi in quota in autostrada in estate ce ne avete per due ore ecco magari in quel caso potete sfruttarlo altrimenti anche in movimento ma magari per Google Maps per Spotify insomma per le app che si possono utilizzare mentre ci si muove devo dire interessante funziona bene ben pensato l'unico dubbio che ho e che non è un dubbio di poco conto è il prezzo costa 176 euro nel momento in cui vi sto parlando cioè a tre giorni di distanza nel momento in cui sto registrando il video a tre giorni di distanza dalla fine della campagna di crowdfunding su Indiegogo dopodiché dovrebbe costare un po' di più forse non si sa ma forse anche no staremo a vedere comunque in descrizione vi lascio il link all'articolo dove sono andato a spiegare tutto quanto in maniera più dettagliata e anche con i link per l'acquisto eventuale devo dire interessante perché permette di ampliare veramente in modo notevole le potenzialità della vostra auto senza dover fare installazioni particolari senza dover fare cose astruse ecco in maniera estremamente immediata e semplice poi il fatto che si possa utilizzare anche il telefono collegato senza dover poi ogni volta scollegarlo per fare una telefonata è fondamentale ed è diciamo una parte importante della sua progettazione carino fatemi sapere che cosa ne pensate intanto se vi è piaciuto questo video un bel like iscrivetevi al nostro canale io sono Matteo noi ci vedremo in un prossimo video a tema tech ciao